L'Auser, associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà, è un'associazione di volontariato nata nel 1991 e con sede a San Lazzaro di Fano. La struttura ha come obiettivo quello di aiutare gli anziani che ad un certo punto della loro vita perdono la propria identità e si avviano verso un percorso di solitudine e di progressiva non autosufficienza. Lo scopo dei volontari è quello di combattere l'isolamento dell'anziano e tutto ciò che può comportare la mancanza dei propri familiari. Tra le varie attività che l'associazione promuove c'è quella della compagnia telefonica, la vigilanza scolastica e l'assistenza alle persone attraverso la consegna della spesa, dei medicinali e dei pasti a domicilio e anche del servizio di trasporto. E proprio sul trasporto, sabato scorso, davanti alla chiesa Gran Madre di Dio a San Lazzaro, è stato inaugurato e benedetto un nuovo pulmino che servirà per i trasporti sociali dell'associazione. Questo è un mezzo per fare trasporto sociale, quello che noi da 20 anni facciamo ma fino ad oggi l'abbiamo fatto con le macchine private dei volontari. Oggi, soprattutto dopo il lockdown, purtroppo non possiamo più caricare sulle nostre macchine gente estranea e quindi abbiamo incominciato con questa vettura per riprendere il nostro servizio. Sappiate che è importante, ve lo dico, nei primi 70 giorni, fino al 10 marzo, quando poi il decreto governativo del Presidente del Consiglio ci ha fatto chiudere, abbiamo fatto 440 trasporti sociali dal 1 gennaio al 10 marzo. Per cui il lavoro che facciamo è grande, è molto importante e adesso piano piano riprenderemo. Questa, come dicevo, è la prima macchina perché abbiamo già in programma di comprarne una, questa qui è in affitto. Ne compreremo una con il 5x1000, siamo orientati verso una Panda a metano e quindi sarà la seconda macchina. Poi in futuro vedremo se riusciamo, se abbiamo i fondi sufficienti, magari ne prenderemo un terzo veicolo per poter continuare a fare tutti questi servizi. Da sottolineare che questa macchina, questo furgone ha anche una pedana per disabili. Sì, 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 questo è importante perché ci capita che dobbiamo caricare disabili, quindi questa possiamo caricarle con la carrozzina senza farli scendere, è molto importante. Grazie. Grazie.